è notte fonda questi sono esattamente gli episodi in cui mi permetto di proprio rasserenarmi nei confronti del ritmo di come ho intenzione di affrontare alcuni eventi proprio perché la stanchezza diventa quasi un vantaggio e una forza piuttosto che un ostacolo e una causa di distrazione e imprecisioni proprio perché ho riflettuto prima di registrare questo episodio stavo pensando 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 al fatto che intanto mi è venuto in mente un altro commento che ho ricevuto nei vecchi episodi ossia che l'arma che trovai nascosta la cura e ma è effettivamente la inglesizzazione di claymore no la giapponesizzazione di claymore e questo mi ha fatto riflettere su una cosa non sul fatto che io voglia utilizzarla per quanto è bellissimo come tanti di voi abbiano riconosciuto una delle mie armi preferite nei souls like comunque come tipologia ossia la quality media no qualcosa che possa essere eclettica a causa di solito dei moveset molto aperti che permette di utilizzare un'arma così diciamo tra entrambi i mondi però in realtà nel mentre voglio controllare il ciondolo che abbiamo trovato aggiunge veleno ai tuoi attacchi ma velena anche chi lo usa bellissimo pungiglio ok di ragno di cari è stato sottoposto ad incantissimi per 68 giorni tre volte al giorno immergendo nel potere etereo del cielo di bog queste cose verranno sicuramente approfondite con altre lore ma con altre descrizioni in realtà quello che vorrei dirvi è che non credo stupisca nessuno ma a me piace molto l'efficienza il min maxing eppure questo forcone mi ha stuccato mi ha sinceramente stuccato sono un po' stanco di utilizzarlo infatti quando ho trovato gli ordini del signore ero emozionato ma non credo sia una buona idea utilizzarli per esempio se io vado a cercarmi credo che siano qui in fondo giusto esatto gli ordini di combattimento emanati da un signore i suoi ricordi possono essere usati da un maniscalco per potenziare le armi questo è molto interessante ceneri del senza sale queste pietose creature sono condannate all'eterna ricerca di quell'essenza vitale che non possono mai ottenere sono spinti a cercare sale per il proprio prador ma non hanno mai l'opportunità di consumarne ok figo trasmutazione chissà per trasformarle in cosa forse armi energetiche o incantesimi incantesimi sono trasmutabili non mi ricordo penso di no non ancora almeno forse solo con i boss forse nemmeno allora io avrei una gran voglia di cambiare ma cambiare proprio tanto non tipologia perché il nostro percorso di level up secondo me è perfetto per noi ma vorrei provare cose nuove per esempio no la falce anch'essa è una quality ma è una quality abbastanza borderline non potremmo utilizzarla ma questo non è affatto male questa combo perché in realtà ok tutti attacchi quadrato caricati fanno tremare la mappa voglio scoprire che effetto fa perché fino ad ora non l'ho mai utilizzato né sapevo che esistesse questo attacco caricato a meno che non l'abbia provato nei primi episodi e poi me ne sia dimenticato può anche darsi questo però anche quest'arma avrebbe annoia parecchio in fretta le spade scimitarra virulenta classe 3 spada cosa non posso vederne il moveset fantastico perché sono troppo lontano accidenti dalle caratteristiche necessarie ossia il tipo di classe quindi se io non ho esti perché classe 1 falce posso equipaggiarla perché effettivamente il colore è bianco ecco perché c'è solo una linea cazzo hai capito te accidenti mentre la x totale alabarda per esempio questa variazione della lavarda a perché posso utilizzarla a due mani vero ma non ha una mano sola è certo è chiaro va bene l'alabarda potrebbe potrebbe essere è molto simile al forcone però non ha quell'attacco fantastico la famosa l'affondo no michele no no all'affondo all'affondo sc io non avevo intenzione di utilizzare la claymore ma sc con l'affondo il roll è l'affondo io adoro però questo moveset è proprio brutto per carità io mi eccito facilmente ma mentre i martelli tra l'altro questo scala da schifo non posso proprio utilizzarlo ci sono moveset ti fanno capire ogni tipo di arma per esempio la verga se la uso no 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 non mi interessa vai via ah non posso proprio è per castare quindi però per esempio lascia stesso moveset esatto quando c'è la x ok però ok per ora teniamoci così e va bene provo a vedere quanto è negativo il veleno su di noi visto che nel caso possiamo difendercene niente io vi dico questo vorrei cambiare arma però nulla mi ha veramente convinto fino ad ora non mi ha fatto battere il cuore andiamo andiamo sotto il cielo stellato ragazzi andiamo avanti cielo stellato ragazzi io ho avuto un'illuminazione provando il ciondolo del veleno e mi sembra strano quasi non aver ricevuto nessun commento a riguardo perché ho messo il ciondolo del veleno e appunto io avevo il ciondolo dell'attacco qui e il ciondolo del veleno sullo scudo e non avevo effetto quindi i ciondoli hanno effetto solo non sono come gli anelli non si attivano solo per il fatto di averli equipaggiati e credo neanche quello che ti aumenta l'attacco questa cosa è pazzia pura nel senso che mette in seria discussione il build up del personaggio ci sono meno sinergie possibili ma soprattutto io ho provato anche a usare quello del fuoco quindi e vedevo che faceva 28, 29, 30, 31 sì ho detto aspetta sì il cazzo perché 29, 30, 31 vuol dire che il doto del fuoco è 1 non che fa ogni volta 20 e 30 vi ricordate come funziona no? e quindi attualmente il miglior ciondolo è inequivocabilmente quello del fiore di sangue per ciò che penso io mentre posso mettermi il ciondolo il ciondolo che mi aumenta la luminosità circostante se adesso non sono in un luogo buio abbastanza o forse ha bisogno di qualcosa per esempio lo scudo effettivamente qui mi fa luce quindi non è una questione di solo equipaggiamento ha bisogno di un'arma però i ciondoli che hanno effetto i ciondoli che hanno effetto su qualcosa che sia fisico si attivano anche se non ho un'arma quindi non può tenere la lanterna in mano ragazzi questa cosa è interessante perché allora a questo punto mi viene il dubbio mi tolgo la campana che avevo utilizzato prima per tornare che mi ero perso un momento se mi metto su questo sassolino faccio attacco e mi metto quello che aumenta la portata qui si 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 vede che cambia no mica tanto però vabbè proseguiamo comunque questa scoperta è importante questa scoperta è davvero importante facciamo così per i perni nel caso anche se continuo a dire che poi li farò così comunque ragazzi che paura che bellissimo cielo pieno di stelle cadenti allora ora qui sono in balia di me stesso sperando di ottenere il doppio salto appena lo ottengo tutto questo silenzio che tensione stupendo in questi in questo genere a volte il silenzio il passaggio qui non mi aspetto moltissimo forse perché il 2d toglie un po' di timore a quello che può circondarti però wow allora a questo fuoco vediamo un po' per esempio questi sono classe 0 armatura leggera ok niente di particolare io dovrei lavorare molto di più molto di più perché io di armature leggere ho veramente poco veramente poco è anche vero che potrei farmi dei test per vedere l'estetica anche senza avere la possibilità di vestirli però per ora mi trovo davvero bene davvero bene vedremo per ora mi tengo questo questa è un'area particolarmente usuale comune il tempio decadente e noi non possiamo ancora superare questi incantesimi purtroppo qui c'è un morto ma da tempo beh 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 io penso di poter effettivamente imparare parecchie cose dalle prossime partite perché già che ho avuto chiarezza sui ciondoli molto tardi in realtà non so se magari è già una cosa che ho scoperto in passato e mi era sfuggita magari ho avuto un fiala della vista occulta quindi mi stai dicendo che ora queste cose che appaiono e scompaiono diventano permanenti oh mio dio è terrificante è spaventoso e senza il ciondolo cinque di danno cinque di danno cinque di danno alchimista di pietra mille sale cinque di danno non è così impattante sul gameplay quindi potrei effettivamente provare il fulmine risucchi a cappè mica è una cattiva idea perché alla fine io sono fissato col mic maxing dei numeri della parametria ma in questo caso non è così importante forse vediamo eh lo bevo no rivelerà le creature nascoste rivelerà le creature nascoste non quello che pensavo anche perché poi la sua durata quant'è questo non mi sembra un santuario in cui mettere particolari doni anche se fai offerta io qua metterei l'alchimista il chierico no il mercelane non ci interessa il mercante sicuramente e la guida per i drop guida mercante e mago completiamo l'area così per ora con te alchimista parleremo idolo d'ambra tutti i materiali questi perfetto è bellissimo comunque questa cosa è veramente bella mi piace da matti ah è vero posso provare a bere la fiala e vedere se appare un'icona accanto alla spalla mi ricorda molto demon crest per il super nintendo questo suono 14 oppure 14 oppure con quello che aumenta i danni sarà un 19 oh figata che meraviglia non lo avrei mai detto fammi vedere i danni fammi vedere i danni bellissimo che ti difendano eccezionale guardate il sangue wow comunque da 14 a 15 molto molto poco è molto meno interessante di quello che chiunque direbbe mai questo ciondolo del danno molto meno molto meno di quanto mai avrei pensato quindi per ora visto che ci avveleneremo ci avveleneremo in un secondo provo a fare la pazzia ah perfetto fiala della vista occulta benissimo anche perché loro non sono invisibili proprio non appaiono finché tu non c'è quando sono presenti sono tangibili altrimenti eccoli perfetto non appare niente in basso a sinistra sono però distruttibili perfetto ottimo devo stare attento che qui è pieno di segreti sicuro perfetto colpo colpo d'accerino pistola pietra focaia figata quindi al posto del buckler ci mettiamo la pistola pietra focaia destrezza una semplice pistola con azionamento a leva che utilizza un accerino per accendere una carica prodotta in serie con materiali di qualità da un manano maiolo rispettabile quest'arma è stata progettata per sparare una grande varietà di tipi di munizioni tra cui cariche elementari avveninate oltre pallini piombo standard fichissimo ho solo dieci colpi se poi si potranno comprare so come investire l'oro so come comportarmi con l'oro comunque perché sono semi visibili da una scia violastra e con le e le combo di cui dispongo sono comodissime ci hanno anche droppato la loro materia duomo del dimenticato non sarà mica l'entità che ci parla non voglio che la sua incorporeità preso ah peccato ho pensato di fare meglio vorrei trovare modo di non ucciderlo oltre le pareti perché se mi droppa qualcosa voglio sapere cos'è no eh wow dis check da scorpione questa è roba forse non pesante una volta tanto e invece minchia pesante elmo della sentinetta del deserto ah 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 cielo com'è la sua estetica orribile cioè orribile affascinante ma non per elion vabbè manco a dirlo apposta eh non devo dire niente ad alta voce no qui sotto se mi butto morirei penso sto cercando di utilizzare la levetta destra quanto più possibile questo fa danno da veleno no vediamo un po' faccio un colpo e togliamo 14 lo tolgo ed è esattamente come prima probabilmente molto resistente all'elemento ma contemporaneamente io sto cercando di capire come utilizzare questi ciondoli in maniera più efficiente oh santo cielo una boss fight ehi 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 merda vabbè 14 è il danno base ora il dubbio è ha paura vediamo un po' un copricapo decorato indossato dai mercanti come simbolo dei loro commerci qui viene semplicemente visto come un oggetto colorato sulla testa di qualcuno giustamente che bello utile per guadagnare un certo vantaggio nelle negoziazioni ma non offre nessun vantaggio sul campo di battaglia e ci aumenta di peso anche il roll vabbè qui non mi stupisco di niente conosciamo you know the drill no? porca puttana non morire Mike ora perfetto sembra che l'effetto dell'elettricità sia più rapido del fuoco meno duraturo però mi piace mi piace 3 2 1 vediamo eh testiamo la cosa ho sbagliato il tempismo di poco sapete che secondo me poi in realtà questi questi status probabilmente ho ucciso un fantasmino mi sa questi status probabilmente non magari scalano in base se io mi buffo fanno molto più male bisogna provare ma per ora aumenta la velocità di attacco la differenza è sempre molto sottile molto sottile tosta tosta scegliere perché mi sento in errore a definire no se io cado dall'altezza muoio però sto scendendo quando il mio obiettivo era salire e in realtà posso sia scendere che salire quindi ora che ho sbagliato oh no glu 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 ok uh guarda quanti perfetto ah ok ok non ho perso niente di particolare quindi anche se lì c'è roba ma ci si può magari raggiungere si può raggiungere magari facendo il giro mi è piaciuto questo esperimento per ora sono infelice dal fatto che non c'è modo di capire quanto dura questo incantesimo di visione probabilmente poco un minuto o meno anello pietra d'oro e un santuario anello pietra d'oro fa aumenta la defesa contro il danno da fulmine descrizione interessante un anello di topazio la sua fascia una volta d'oro si è trasformata in qualcosa di ultraterreno mica il valore che può avere una cosa del genere eppure qui ok come sei aggressivo è che non lo sapevo per favore io pensavo che col bugler avrei ottenuto qualche bonus ne sei stato anche felice no io speravo di poterti uccidere più in fretta è un toro minchia veramente porca miseria spero che ci sia un non è che per caso è la difficoltà del boss ovviamente al primo try non ci penso nemmeno a baffare l'arma scusate anzi no che scusate so che siete contenti ma è una questione proprio di giocatore mio non ha senso uh guarda che roba quanti passaggi vabbè però il buff alla difesa si quindi mi prendo la velocità va bene intervento etereo e andiamo chi sei l'inviolato inquisitore the untouched inquisitor mi sembra non un merdone ma molto meno wow che figo molto meno molto meno pericoloso di quanto mai avrei uh mi avrebbe ucciso ok però con un po' merda eh no le ho abbastanza prese però era abbastanza un merdone in realtà se mi fossi baffato non l'avrei neanche vista la boss fight ah ecco i soldi i quanti i quanti soldi il duomo sì ma datemi il marchio no io qui voglio il marchio uh la neva lo shortcut io ho visto cose che si sono aperte qua però prima lo shortcut e un rammendo sfera di cristallo si è aperto vero ok poi vediamo cosa questa scala ci porta a vedere le candele non sono la difficoltà del boss ma no no bastone di sorbo porca puttana guardalo guardalo simpaticissimo uh ce n'è un altro là sbrighiamoci finché abbiamo l'effetto attivo è che fare questi salti così precisi mi fa venire in mente che forse la palude potevo potevo farcela piuttosto che arrendermi ma quel salto mi sembrava sacca di sale attenzione ok mi faccio un bel buff all'arma benedetta e lo sfondiamo perché insomma aiai oh 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 Michele attento mi sa che mori shottato no forse shottato no però quasi eh oh questo è il potere del buff qui non ci si può salire qui però non è questi qui non ci sono i doppi salti qui ci sono questi mi sembrava una non è giusto sono stato ingannato dal background che pensavo fosse foreground porca putt oh wow figo è un mostro normale bello comunque in realtà qui si ride e si scherza ma credo che ci sia molto da osservare non solo di gameplay vedete quell'altare vedete questi fantasmi sono probabilmente fortemente legati all'inquisitore specialmente perché in realtà si vabbè al di là del gameplay che loro sono chiaramente le skin di quelle streghe minchiate a parte di design dei mostri qui si nasconde qualcosa di molto più cupo perché questi sono spiriti rimasti probabilmente dopo l'inquisizione del bastardo l'intoccato magari poteva fare quello che voleva porca miseria guida io mi sono quasi ammazzato per una guida per una guida di pietra io sono qui a a rischiare la pelle per una che faccio qui ok perfetto mi raccomando e non traditemi io ho bisogno di cose nuove qui però but ma ah ok vabbè ok the third lamb il terzo agnello qui c'è scherzi a parte qui c'è parecchio da capire vabbè è una chimera ah eccolo il vero boss ecco questo è il vero boss decisamente il vero boss anche se è una versione potenziata di cose che conosciamo abbastanza bene ok maffiamoci ok ehi io stavo giocando con te ma questi buff non ti fanno più di tanto eh ah sono stato sciocco e avido bravo ti ho ucciso per avidità però ti ho ucciso soldi 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 ok il sacrificio l'agnello becco del terzo agnello oh è tutto così tranquillo tu mi darai il potere sono stato attratto a questo duomo per ragioni che non capisco è un luogo così desolato desidero avere un amico ma credo di aver allontanato tutti quelli che amavo dimmi hai mai sentito parlare della luce solida? no ma l'ho vista e allora lascia che ti spieghi la luce solida è stata descritta come raggi di luna cristallizzati può essere vista e toccata solo da coloro che possiedono un marchio di luce solida ma anche coloro che non possono toccare la luce ne vedranno comunque le tracce vorresti avere il marchio? sì come pensavo non è complicato accettalo vieni anche tu qui a pensare vero? mi piace la solitudine ma naturalmente sei sempre il benvenuto mi piace pensare a come le mie azioni possono essere significative fare la differenza questo è ciò che porto in questo mondo ok ma i marchi no? sono già attivi per conto proprio indossa questo marchio per pervadere la tua torcia con una luce che permette di rendere l'arcana materia blu tangibile proprio perché in realtà io ho visto che non era cambiato nulla e dimmila questa mi risolve il problema? come no Michele buttati però in realtà io sono tutt'altro che soddisfatto perché io adesso vorrei tornare indietro per esplorare un paio di cose perché ovviamente quelle cose sono rimaste fortemente in sospeso per dire no? caro amico mio perfetto perché io che sono stronzo ma fino a un certo punto magari mi sbaglio e ho detto una minchiata però 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 forse qui non c'è niente di segreto ma ah si un oggetto si anello carico perfetto però ragazzi senza impazzire e desiderare backtracking perché io non penso di voler fare backtracking fino a che non ho il doppio salto e posso fare entrambe le cose effettivamente qui c'era una cosa mi dava un gran fastidio ah 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 ok c'è il passaggio non l'avevo neanche visto non l'avevo proprio visto che c'era fantastico paura eh ahia bravo touche touche ok ok sono un po' nei guai davvero hai ragione sai che ti dico suka tu non puoi seguirmi oh questo volevo anche se c'è una certa logica nel volersi riposare prima io ero convinto di dover fare qualche caduta storta invece c'è il passaggio di luna cristallizzata ah ma che veramente stiamo andando sono tutt'altro che vicino alla fine del gioco beh eh fio mio io cerco di cerco di fermarti ok non cadi ah ho capito ecco torna qui torna qui torna qui no no sei duro come la pietra e credo di stare avanzando troppo orizzontalmente nella mappa ma visto che stiamo per finire qui un perry baffato te lo becchi tutto eh no no ho capito hai una buona strategia di protezione dai perry o meglio dai doppi attacchi però come non attacca ceneri del cavaliere orrido chissà se è un mostro unico io dovrei provare vabbè ok merdoni coccio rosso io sono molto teso perchè sto avanzando molto in fretta qui ragazzi ma siamo sicuri magari qui si torna indietro c'è uno shortcut per la caverna pensavo che fosse un npc per un momento però sono fragili 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 eh 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 porca miseria il buio però dai che secondo me siamo non avrei mai bloodbrow figo sembrava l'armatura di un eroe giapponese di un supereroe giapponese degli anni 80 ma io sto andando qui ma la loro luce toglie quella naturale merda il tempio di nuovo un'altra entrata sapete cosa penso ragazzi io mi sento a disagio con quel salto no ma ci ho provato perchè devo essere così critico delle mie capacità deduttive del gameplay quel salto forse perchè ero era un episodio in cui ero nervoso può essere che il mio nervosismo non mi ha fatto vedere l'ovvio che fosse dopotutto era interagibile possibile che mi sbagli e che la parude sia in realtà completamente accessibile può essere porca puttana queste sono aree completamente nuove che figata ziggurat di polvere ragazzi è emozionante da morire sto salendo sopra lo ziggurat che palesemente è appunto una piramide a gradoni sto premendo il cerchio per vedere se alcuni di questi gradi hanno questi scalini hanno una porta segreta quanto siamo in alto ok va bene penso che forse sto facendo una cosa stupida perchè senza indizi eppure questa è una cosa abbastanza old school che potrebbe starci cioè abbastanza telefonato che qui ci possa essere un segreto perchè abbiamo già imparato che sotto alcune alture proprio in scalini o in similtali ok stiamo raggiungendo la terraferma sacca di terra la sacca di terra porca puttana fermi rammendo rammendo cristallo cristallo buff non posso giocare porca puttana sono su un altro pianeta no ho rischiato troppo non avrei dovuto rischiare tanto ma ho preso la sacca di pietra ragazzi sono 70.000 sale non penso di averli persi non sono così vediamo un po' l'avversario era unico che cazzo era unico però ok state con me fino alla fine di questo episodio abbiamo il controllo perchè io posso assolutamente cavarmela posso vestirmi diminuire il mio roll aumentare un attimino la difesa utilizzare qualche scudo l'importante è adesso non farsi prendere dal panico di perdere tutti quei sali abbiamo anche trovato un anello per esempio noi abbiamo una classe 2 armatura leggera almeno classe 4 armatura di pelle e lastra laminata i Bloodbrow erano una società segreta di arcanisti nel periodo in cui le bestie erano una minaccia più grave per l'uomo la società è caduta nel dimenticatoio dopo che un aspirante lord ha tentato di trasformarli in una squadra personale mandandoli a caccia dalle presunte streghe che erano in realtà rivali politici porca miseria non avevano i guanti non ci ho fatto caso wow perché ora sto con cavolo beh per ora non mi faccio troppe domande anche se mi piaceva molto il design di prima però per ora devo fare poco il prezioso 70.000 sale per questa parte del gioco non è più poco non è non è proprio poco uomo amore sia lodato sia lodato il sale per favore allora Michele ora se non fai minchiate ce l'hai mettiti non quello dell'attacco veloce ma quello del drain ce l'hai ce l'hai hai hai la possibilità di farcela buff arma benedetta divina e rammento equipaggiato partiamo da un presupposto questo ok pane devo barare cioè barare devo fare il devo giocare safe devo giocare molto safe non conosco quanto è resistente ho una voglia matta di perriarlo e punirlo ma non posso giocare col fuoco porca puttana che rischio sbagliato ho corso sto messo male perché non ho coraggio adesso sono spaventato la trappola del giocatore suca non devi essere spaventato Michele non devi aver paura di lui porca puttana ti devi aver paura di lui devi cagarti addosso devi essere terrorizzato di lui Michele smettila di fare lo sgargiullo non puoi permetterti di essere sgargiullo davanti a 70.000 sale per favore che bella sensazione che meraviglia devo sparargli mamma mia che figata che figata queste emozioni dai che c'è un santuario un santuario no un santuarino ora c'è una trappola mazza frussa la battaglia non è sta cosa tipo sciotta cosa del genere no vero ceneri dell'annegato di porcellana ma che che posto che posto sono finito sono infognato nei peggio posti sono nei guai non ci sono candelabri ho una paura che come si chiama l'area iniziale del gioco comunque io ho dato per oggi vi dico una cosa il prossimo episodio allora intanto cerchiamo un vero santuario ok e vi spiego il prossimo episodio ah no prendiamo l'ascensore facciamo prima aia per favore lasciatemi stare e nel prossimo episodio voglio provare a fare un salto di nuovo alla palude perché mi sento insicuro delle mie scelte nonostante tutto è una stupidaggine ma visto che abbiamo la possibilità di inserire delle guide torce e nel prossimo episodio facciamo il level up e tutto all'inizio del prossimo così evitiamo no ho sbagliato così evitiamo di trascinarci questo anche perché aia elion è molto bella così molto bellina però contemporaneamente contemporaneamente la sua mobilità diminuita diminuita non mi garba particolarmente non possiamo eccoci qua ragazzi calma abbiamo parecchie risorse ok alla prossima stupendo stupendo che pocci qua non mi garba non mi garba tutto